27 scuole partecipanti provenienti dall'Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto per un totale di 170 studenti che fino a sabato 8 si sfideranno nelle gare di cucina, accoglienza turistica e sala bar. Ha preso il via Bari la gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali alberghieri che frequentano il quarto anno in dirizzo Eno Gastronomia e ospitalità alberghiera. Ad ospitare la prestigiosa iniziativa l'Ipsar Armando Perotti di Bari che lo scorso anno ha vinto il primo premio nella sezione Eno Gastronomia con l'alunno Giuseppe De Vincenzo. Nei quattro giorni vedremo squadre diverse nei tre settori di pratica operativa, Eno Gastronomia, cucina, sala, vendita e accoglienza turistica cimentarsi ciascuna con il proprio bagaglio di preparazione, maestrie ed eleganza, miste emozioni legate al clima della competizione ha spiegato nel corso del briefing di presentazione della gara la dirigente Rosangela Colucci. Le delegazioni e ospiti saranno protagoniste con i nostri alunni, docenti e persone alleate di tanti momenti positivi che mi auguro, ha continuato la dirigente, ricorderanno per sempre. La crescita della scuola, poi concluso, nasce dalla consapevolezza che la formazione dell'alunno è da intendersi nell'integrità come percorso che parte dall'essere uomo e cittadino e si arricchisce via via di studio, nuove competenze e professionalità in perfetta coniugazione con il mondo del lavoro. La gara, che si concluderà venerdì 7 aprile con la serata di gala e le premiazioni, è patrocinata dal NUR Puglia, Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari e Camera di Commercio di Bari. Dopo la presentazione delle prove che affronteranno gli studenti e i componenti delle varie giurie, spazio poi al momento più atteso, ovvero quello della degustazione di alcuni piatti tipicamente pugliesi preparati dagli studenti dell'Ipsar Perotti, apprezzatissimi dei presenti e curati nei dettagli dei docenti e chef della scuola. Tra le proposte del menù tipico pugliese, l'angolo del pane, ortaggi crudi degli orti pugliesi, salumi pugliesi, fave e cicorie, lattiella di riso, patate e cozze, orecchiette con ragù alla varese e bragiolettine, tegame di zampina, funghi e lampacioni, cosciotti di agnello in crosta con pomodorini, pecorino e menta. Nel corso delle cinque giornate i docenti accompagnatori provenienti dalle altre regioni d'Italia avranno la possibilità anche di visitare il territorio con escursioni organizzate nelle eccellenze di Puglia, da Polignano Mare ad Alberobello, Ostuni, Castel del Monte, Trani e Bari.